Il quarto premio è il rinoceronte, il rinoceronte, giùci, attenzione perché siamo al momento conclusivo, qualcuno ha un terzo premio e potrebbe essere o Adriana o Sara, qualcuno ha il primo premio e siccome il terzo premio è unghie e carote, il primo premio è il gatto! Come si dice quando c'è il gatto? Viva la fiera! Viva la fiera! Viva la fiera Sara! Viva la fiera! Viva la fiera! Viva la fiera d'ufficio al 702254 Viva la fiera d'ufficio al 702255 Viva la fiera d'ufficio al 702255 Viva la fiera d'ufficio al 702255 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione